Ciao a tutti, per ovvi motivi non posso rivelare la mia identità. Ringrazio il canale simdrivers.eu per darmi questa possibilità di svelare questo segreto, questa cosa straordinaria che voglio condividere con tutti voi appassionati di sim racing. Ho scoperto un medono rivolzionario che vi permetterà di abbattere i vostri tempi sul giro come mai prima donna. Un segreto che ovviamente tutti i campioni non vogliono che venga rivelato. Negli ultimi mesi ho dedicato innumerevoli ore alla ricerca e alla sperimentazione dei simulatori più popolari e finalmente ho trovato la chiave per il successo. Non crederete ai vostri occhi quando vedrete quanto è semplice. Questo metodo è così potente che ho dovuto chiedermi se fosse addirittura etico condividerlo. Ma alla fine ho deciso che la comunità dei sim racer merita di sapere. Siete pronti a scoprire il segreto che cambierà per sempre il vostro modo di guidare? E il segreto verrà battere i vostri tempi sul giro eh? Raga è maio di che se ne so. Raga è maio di che se ne so.